Ehi, dove credi di andare, gamba? Secondo te? Verso l'oceano! Wow! Ehi, c'è un'emergenza! Abbiamo un problema, io iscio! Vi scongiuro, aiutatemi! Le donne le uccideranno tutti i topi della nostra isola! Il demone bianco, Noroi. Questo non è un gioco! Vuoi davvero che affrontiamo Noroi? Verrò io con te, Ciuta. La tua gente è in pericolo, no? Non saresti capace di combinare niente senza di me? Tu hai bisogno di me, gamba! Siete tutti pronti alla battaglia? Sai qual è il significato del fiore giallo della palma di Chicas? Significa speranza! Ci siamo! Pronti? Non potete arrendervi così facilmente! È una follia! Sì. Aaaaaaah!